Nonostante il meteo in fausto ha contato molteplici adesioni la terza edizione di Instamit Gubbio 2022 organizzato dallo staff di IG Gubbio con il patrocino del comune di Gubbio, del Lions Club e del Leo Club Gubbio e in collaborazione con le community di IG Assisi e IG Firenze, l'applicazione poi advisor e il food blogger Lorenzo Diamantini. Un'edizione speciale che ha segnato la ripartenza dopo il biennio offuscato dal covid e che ha permesso ai tanti partecipanti di ammirare le bellezze e Gubbine alternandole ad assaggi e degustazioni magistralmente serviti da ristoratori, pub, bar e non solo per una forte operazione di marketing territoriale e culinario. Sono state 26 di fatti le attività del centro storico che hanno aderito all'iniziativa e che hanno accolti partecipanti con degustazioni ed assaggi di altissima qualità. Centrale anche la connexion con il MUAM, Museo Arti e Mestieri di Gubbio, grazie al quale è stata creata la location ideale per ospitare le otto attività con sede fuori dal centro storico. Il maltempo ha rallentato un po' il tour ma lo staff è comunque riuscito ad accompagnare i presenti nell'attività, producendo grandi quantità di contenuti da pubblicare sui social network entro il 30 settembre per partecipare al contest fotografico e video reel con l'hashtag Gubbio FB. Il primo Istamit, sempre con noi del Lions, lo organizziamo per quanto riguarda gli arti e mestieri che si svolgono nella nostra bellissima città di Pietra. Nel secondo anno, nel secondo evento, abbiamo cercato di focalizzare i monumenti e l'architettura della nostra città. Quest'anno abbiamo deciso di collaborare proprio perché si parlava sempre della nostra città ma sotto un aspetto più e non gastronomico. Siamo felicissimi dopo tre anni di poter tornare all'Istamit che quest'anno è stato un po' condizionato dal maltempo che non ci ha aiutato però in qualche modo siamo riusciti a farlo e direi anche con ottimi risultati. Non possiamo non mandare un pensiero a chi in questi giorni purtroppo sta vivendo momenti difficilissimi, anche noi abbiamo riflettuto molto nelle ultime ore però diciamo l'evento era partito, non era più nelle condizioni di essere fermato, era anche un po' per guardare avanti con quello che la vita vuole e chiede. Per cui un pensiero a chi sta soffrendo in questo momento e al tempo stesso un messaggio di felicità da parte nostra perché tutto è riuscito nel migliore dei modi. Un evento enogastronomico che si è svolto in una maniera un po' atipica dove si è portata alla gente a fare un vero e proprio tour enogastronomico per tutte le attività della città. Inoltre abbiamo anche trovato una location d'eccezione quale è il museo, il MUAM che ha ospitato ben otto espositori tra cui la Rosita Merli che tutti conosciamo con il suo famoso fricco e qui abbiamo trovato un punto diciamo di riferimento visto anche le condizioni climatiche che non ci hanno proprio aiutato però siamo felici di questo evento e di questo nuovo format e speriamo di poterlo ritrovare anche il prossimo anno.